Nell'anno di Pesaro 2024, Capitale Italiana della Cultura, si coglie l'occasione per consolidare le relazioni internazionali con il mondo e in questo scenario, nei giorni della storica mostra internazionale della Nuovo Cinema, rientra la Korean Week per una scoperta della cultura coreana dalla 20 al 23 giugno. Una delle novità di questo 2024, di Capitale Italiana della Cultura, ma che vorremmo potesse diventare una bella abitudine della città di Pesaro, abituata alle relazioni internazionali. La Corea è uno dei paesi culturalmente più interessanti, in questo momento più in evoluzione, a partire dal digitale, ma anche dalla creatività musicale, dalla bellezza dell'attenzione anche ai processi artigianali, dalla ceramica alla carta e siamo convinti che continuare a investire su questo tipo di rapporto sia per noi molto importante. È un rapporto che parte dalle città UNESCO coreane collegate a Pesaro, a partire da De Gu, città internazionali della musica, come Pesaro, ma che arriva a tanti altri ambiti, dal cinema al design, alla letteratura, tutti i ambiti le cui città UNESCO della Corea agiranno per partecipare a Pesaro portando i propri artisti. Il legame di Pesaro con la Corea nasce fondamentalmente dal 2005, quando un'edizione storica della mostra del cinema apriva una finestra decisiva sulla conoscenza del cinema coreano. Ora il cinema coreano è molto anche nel digitale, nelle serie, insomma nei key drama che tanti di noi conoscono. A livello anche social c'è una passione vera per il tema della Corea che poi passa per altri elementi, dal key food attraverso il tema della gastronomia e della cucina, un ristorante opera diventerà per una settimana ristorante coreano, il key beauty, quindi avremo dimostrazioni e corsi rispetto alla cosmesi coreana e ad esempio anche tutto il tema legato alla scrittura, alla calligrafia, alla carta, insomma ci sarà un vero e proprio scambio di conoscenze tra l'artisanalità pesarese, marchigiana e quella coreana che si porta dietro tra l'altro anche un grosso potenziale di scambio turistico perché la Corea è un paese che sta crescendo tanto sia in termini di ricettività turistica ma anche in termini di coreani disposti a viaggiare e che cercano la qualità anche delle nostre proposte e quindi è anche un punto stabile che andiamo a creare con questo paese, ripeto, in nome della creatività e in nome anche di uno scambio di esperienze che parte anche da tanti artisti coreani presenti a Pesaro a partire dal conservatorio e presenti in Italia delle istituzioni nazionali. Tra l'altro c'è la partecipazione dell'Istituto Nazionale Coreano e anche delle due ambasciate sia italiana che coreana a Seoul e a Roma e quindi siamo molto contenti di questo rapporto e crediamo che sarà una bella eredità di questo 2024 al Capitale. Un'occasione, quella della Korean Week, per portare a Pesaro un clima di internazionalità, non soltanto all'insegna della cultura ma anche della promozione e del turismo. Gli scambi e le relazioni tra i paesi sono molto importanti. La Corea peraltro è un paese in forte evoluzione anche dal punto di vista economico, c'è un grande interesse per l'arte e la cultura italiana per cui questa settimana dal 20 al 23 di giugno con anche delle anteprime e delle code finali, ma diciamo che il clou del programma è dal 20 al 23, mette insieme una serie di iniziative, concerti musicali, rappresentazioni vocali, laboratori di grafologia, la possibilità di vestirsi con i vestiti tradizionali coreani, insomma tante iniziative per accrescere queste relazioni e per stimolare la curiosità anche da parte dei pesaresi, dei cittadini della nostra provincia su questo grande paese. L'iniziativa delle relazioni internazionali va assolutamente sviluppata sia per Pesaro e Rossigno Opera Festival, ma per tante altre iniziative anche di carattere turistico che possono portare i cittadini coreani a visitare le bellezze della nostra provincia.